Allora, pomeriggio di visite nell'appartamento che vi avevo fatto vedere l'altra volta, adesso vi rimetto comunque il link per andare al sito e niente, quindi un pomeriggio di lavoro Eccomi di rientro ragazzi, ho fatto un po' tardi perché dovevamo avere due visite ma alla fine si sono moltiplicate perché stavamo davanti ovviamente, davanti all'appartamento col cliente e la vicina ha sentito che l'appartamento era in vendita quindi si è informata, ha voluto fare una visita Addirittura c'era un'impresa edile sotto e un signore dell'impresa edile ha voluto a sua volta fare una visita perché ha saputo che stavamo vendendo l'appartamento, quindi è stato anche abbastanza divertente Comunque io vi rilascio il link che vi porta alla scheda dell'appartamento di immobiliare Riberto, l'agenzia con cui collaboro quindi se volete andate a dare un'occhiata, noi intanto ci stiamo dando da fare con le visite, quindi speriamo che vada tutto bene Ragazzi buongiorno, io sono a casa e mi sto preparando il pranzo e ho fatto un giro su TikTok e praticamente il 90% dei video è di una serie tv che si trova su Netflix coreana che si chiama Squid Games Qualcuno l'ha vista, me la consigliate? Grazie All right, let's go.